Ciao ragazzi qui è Marchettino e oggi ci facciamo una chiacchierata per affrontare come tema i costi di gestione di una delle macchine più incredibili degli ultimi due decenni stiamo parlando della Bugatti Veyron già quando si parla di costi di gestione di una supercar stiamo parlando di cifre che sono fuori dalla portata della maggior parte di persone quando si parla di hypercar si parla di una cerchia ancora più ristretta, esclusiva, con cifre che sono veramente da capogiro non solo per quanto riguarda l'acquisto ma soprattutto il mantenimento la Bugatti Veyron è stata lanciata nel 2005 e a quell'epoca aveva dei numeri che erano fantascienza un milione di euro il prezzo di acquisto, 407 km di velocità massima e bene 1.001 cavalli numeri che forse oggi non ci sorprendono più di tanto ma credetemi che due decenni fa questi numeri erano e a mio avviso sono tutt'oggi tanta roba fa strano pensare che ad esempio oggigiorno le Ferrari F12 TDF da usate costano di più della Bugatti Veyron quando era nuova però all'epoca un milione di euro erano tanti ma tanti soldi per una macchina mentre oggi sembrano noccioline se guardiamo il mercato delle supercar e dell'hypercar come ho già menzionato nell'ultimo video sì se avessi soldi non mi dispiacerebbe avere una Veyron in garage perché a mio avviso è un capolavoro di ingegneria è una macchina che ha sfidato le leggi di gravità e già nel 2005 la Veyron è arrivata dove tanti costruttori non erano finora riusciti ad arrivare cioè creare una hypercar dei numeri pazzeschi con l'affidabilità e la possibilità di utilizzarla quotidianamente possiamo dire che già all'epoca la nota dolente non era il milione di euro per acquistarla ma i soldi che bisognava spendere ogni anno per mantenerla e quindi usarla perché una macchina da queste capacità e prestazioni mostruose non è una macchina che puoi trascurarla e tagliandarla quando ti pare se Bugatti ti dice devi fare tagliandola la macchina devi farlo e i costi di gestione della Bugatti Veyron fanno semplicemente spavento delle varie voci di spesa partiamo dalla più classica delle classiche cioè il cambio dell'olio è una cosa che facciamo tutti sulla nostra macchina Bugatti raccomanda il cambio dell'olio motore ogni anno sulla Veyron il grosso motore W16 da 8 litri e 4 turbine ha una capacità di 16 litri olio motore quanto costa un cambio dell'olio? stiamo parlando all'incirca di 25 mila dollari no la Bugatti Veyron non è alimentata ad oro liquido come olio è una macchina molto complessa poche persone riescono a metterci le mani sopra e potete capire che smontare le varie paratie parti meccaniche per arrivare ad inserire l'olio motore non è una cosa così semplice e veloce da fare è una macchina che meccanicamente è molto complessa e quindi ogni lavoro che bisogna fare richiede tante ma tante ore di malodopera che potete capire in Bugatti non sono proprio così economiche in modo da poter sfruttare tutte le potenzialità e guidare in sicurezza la propria Veyron una delle parti più importanti sono ovviamente i pneumatici Bugatti raccomanda la sostituzione dei pneumatici ogni 2-3 anni quanto costa un treno di gomme? all'incirca 38 mila dollari per ordinare le gomme della vostra Veyron non è che andate su internet e le trovate perché questa macchina è equipaggiata con delle Michelin Pilot Sport Pax specifiche per questa macchina infatti Bugatti per garantire queste prestazioni da capogiro ha sviluppato insieme a Michelin una mescola speciale disponibile solamente per questo modello e la gommatura lascia senza parole e la voce di spesa dei pneumatici non è finita qui perché all'incirca ogni treno di gomme dura più o meno 4.000 km e al quarto cambio di gomme Bugatti ti obbliga non solo a cambiare il treno di gomme ma anche il set di cerchi perché per via delle buche, sconnessioni, avvallamenti Bugatti dice che alle alte velocità quei cerchi dopo tutti quei chilometri non possono più garantire sicurezza e prestazioni e quindi la voce di spesa si fa piuttosto cara stiamo parlando di ben 50.000 dollari queste tre voci di spesa ve le ho espresse in dollari americani perché facendo tutte le mie ricerche sono riuscito a trovare testimonianze di proprietari di Bugatti che hanno voluto condividere i propri costi di gestione quindi potete capire che già anche solo a tenerla ferma la Veyron vi costa una barcata di soldi però immagino che se avete una Veyron di tanto in tanto volete anche tirarla fuori dal garage e godervela capito l'assicurazione? io non ho idea di quanto può costare non ho trovato le cifre io mi chiedo anche se ci sono assicurazioni che hanno il coraggio di assicurare la vostra Veyron probabilmente se chiamate il vostro assicuratore gli chiedete mi fai un preventivo per una Veyron molto probabilmente che vi sbatte il telefono in faccia ho trovato la testimonianza di un proprietario inglese di Veyron che non ha voluto dire la cifra esatta però nell'intervista ha detto che ogni anno spende all'incirca l'equivalente di una auto di lusso nuova per poter guidare la sua macchina quindi a mio avviso stiamo parlando tra le 50 e 60 mila euro penso sia una cifra piuttosto plausibile se si parla soprattutto di una casco totale anche perché se fate danni è un attimo trovarsi con un conto da capogiro e più tardi nel video ne parliamo ed è probabilmente per questa serie di motivi che quando vediamo delle Bugatti Veyron in vendita quasi tutte tendono ad avere dei chilometraggi molto bassi sono delle macchine che meccanicamente parlando sono dei capolavori sono molto affidabili il problema è che hanno dei costi di gestione spaventosi quindi anche per chi può permettersela tende a non godersela più di tanto per strada però non sono tutti così perché sul mercato questa è una delle Veyron con uno dei chilometraggi più alti attualmente questa macchina ha circa 60.000 chilometri ed è una Veyron unico proprietario questa Veyron è di un signore francese ed è molto particolare perché è una Veyron pre serie perché questa qui fu una macchina testata da Bugatti e arrivò alla sorprendente velocità di 414.7 km orari come voi sapete per motivi di sicurezza e di durata dei pneumatici Bugatti limitò la velocità a 407 km orari gomme che in ogni caso durano relativamente poco perché se lanciate la vostra Veyron alla velocità massima le gomme durano appena 15 minuti non riuscite neanche a fare la velocità massima per 15 minuti perché lanciati a 407 km orari il serbatoio da 100 litri lo svuotate in appena 12 minuti il che significa che il consumo si assesta a 800 metri con un litro e questa probabilmente è la voce di spesa più bassa che potete avere sulla Veyron il che è tutto un dire mi fa impressione pensare che quel signore francese ha fatto oltre 60.000 km con la propria Veyron d'altronde se te lo puoi permettere sfruttala, goditela la macchina e chissà in tutti questi anni quanto ha speso per poter sfruttare così tanto la sua Veyron anche perché come vi ho accennato prima oltre alle spese ordinarie dovete considerare anche le spese straordinarie come dei potenziali imprevisti e io spulciando su internet sono riuscito a trovare un po' dei costi dei pezzi di ricambio e della manodopera di Bugatti nonché anche una fattura di una Veyron che è stata incidentata andiamo a vedere allora in questa fattura scritta tutta in russo riguarda la sistemazione dei danni avvenuti su una Veyron come potete vedere anche da questa foto si possono notare i danni al paraurti e al cerchio purtroppo sono di bassa qualità ma è il massimo che sono riuscito a trovare vi risparmio anche la traduzione della fattura e vi elenco un po' i lavori che sono stati eseguiti tra le varie voci di spesa si parla della sostituzione del paraurti della riverniciatura delle griglie del paraurti del parasassi di un nuovo pneumatico e di un nuovo cerchio e altre tante varie piccole voci di spesa come bulloni e cose varie quanto gli è costato al proprietario della Veyron questo scherzo? 3.8 milioni di rubli convertiti in euro fa circa 45.000 euro deve essere stata molto divertente la chiamata alla compagnia dell'assicurazione quel giorno come potete capire qualsiasi cosa toccate o qualsiasi imprevisto a bordo della vostra Veyron sono soldi ma la cosa che mi fa impressione è che spesso il costo della mano d'opera supera il costo della parte stessa da rimpiazzare come potete vedere in questo secondo documento possiamo vedere alcuni costi di parti meccaniche e quanto costa installarla sulla macchina ho il documento sotto mano quello che vedete adesso ad esempio la coppia di turbine della prima bancata vi costa 5.640 euro e montarle vi costa ben 8.000 euro di mano d'opera quindi se raddoppiate questa cifra cambiando tutte e quattro le turbine andate a spendere ben 27.280 euro per sostituire tutte e quattro le turbine invece se volete fare degli interventi all'albero a camme ci sono varie piccole voci di spesa che riguardano l'aspirazione e lo scarico cifre piuttosto irrisorie che però portano la mano d'opera ad una cifra sconvolgente per andare a lavorare sull'albero a camme dovete preventivare fin da subito bene 19.200 euro solo di mano d'opera invece se volete fare un po' tutto a risparmio potete fare un salto su ebay e fare un po' come fa De Agostini e costruirvi la vostra Veyron con delle uscite settimanali io non ho potuto credere ai miei occhi ma su ebay c'è un grosso mercato di pezzi nuovi usati della Veyron guardate cosa ho trovato vi siete stancati del colore che avete negli interni della vostra Veyron bene ho trovato inserzionato questo set di interni presi da un'altra Veyron che ha un costo espresso in euro di circa 79.000 euro non volete spendere una barcata di soldi per un set di gomme e cerchi nuovi? bene l'ho trovato all'equivalente di 31.000 euro volete un nuovo paraurti posteriore in carbonio? eccolo qui a 12.000 euro avete bisogno di cambiare lo scarico? eccone qua uno proposto a 10.000 euro avete bisogno di cambiare il cofano? eccolo qui a 7.000 euro qui troviamo anche una copia di fare anteriori proposti a 6.000 euro ma ehi non è tutto costosissimo sulla Bugatti Veyron perché ho trovato le spazzole terzi di cristallo ad appena 12 euro guardate al lato positivo se partite comprando le spazzole avete già fatto un primo passo spendendo poco scherzi a parte possedere una Veyron non è una cosa da tutti neanche da tutti per quanto riguarda i milionari sono poche le persone che hanno il coraggio di tirar fuori più di un milione di euro arrivare a spendere anche più di 100.000 euro all'anno solo per poter dire ehi c'è una Veyron in garage e in Italia ci sono Veyron? sì nel corso degli anni ci sono state delle Veyron in Italia e addirittura alcune targate italiane personalmente la prima Veyron che ho visto dal vivo in vita mia fu a Milano in quella che una volta era la concessionaria Lamborghini Milano che purtroppo oggi non esiste più non è quella che adesso troviamo in centro e la macchina che vedete non era mai stata targata aveva appena 300 chilometri e apparteneva alla famiglia Gheddafi questa macchina una volta che è scoppiata la guerra in Libia è sparita è stata caricata su un camion non si sa dove sia stata portata e da allora non è più uscita allo scoperto un'altra Veyron di cui si parla tanto ma che purtroppo non ci sono foto riguarda la Veyron dell'avvocato Gheddaini cioè l'avvocato di Silvio Berlusconi per tanti anni ho sentito voci sul fatto che lui ne possedesse una o anche amici veneti che effettivamente me l'hanno confermato però in tutti questi anni io non ho mai visto una foto e c'è foto di Veyron con targa italiana ci sono perché qui potete vedere una Veyron Super Sport sì una delle Veyron più rare mai costruite la possiamo trovare qui in Italia la macchina si trova dalle parti di Bologna io il giorno che ho visto la foto di sta macchina soprattutto dalla targa italiana ero così ogni tanto in cielo l'ho scoperto ed è bello vedere che ci sono macchine del genere che circolano in Italia un'altra Veyron targata italiana che circola possiamo dire abbastanza spesso perché ogni tanto si fa vedere è questa macchina qui che si trova dalle parti di Arezzo mentre un'altra Veyron piuttosto famosa in questo caso si tratta di una Vitesse sempre con targa italiana è questa qui forse dalla targa 007 potete capire che il proprietario è no è James Bond ma Cristiano Ronaldo infatti da quando si è trasferito a Torino per giocare con la Juve ha portato anche gran parte della sua collezione di macchine che non riguarda solo la Veyron ma anche la Chiron e anche la McLarenson e chissà quante altre macchine quindi sostanzialmente ci pensa Cristiano Ronaldo con il Bolle Super Bolle a risanare un po' il pil disastrato del nostro paese con la targa italiana un'altra spesa non da poco è ovviamente il Bollo perché 1200 CV vi costano 3600 euro di Bolle ordinario più 14.000 euro di Super Bolle cifra che dovete pagare ogni anno mentre per un esemplare da 1.100 CV si spendono 3000 euro di Bolle più 6.600 euro di Super Bolle cifra ridotta essendo quasi tutte le Veyron esemplari che hanno più di 5-10 anni bene ragazzi e questo è quanto oggi avete capito il perché le Veyron non si vedono così spesso per strade soprattutto perché la maggior parte hanno chilometraggi così bassi ragazzi se vi è piaciuto questo video mettete like iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione ciao 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 ciao